Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog ASMR, il vlog del mio primo giorno di università, anno accademico 2023-2024. Caffettira rigorosamente preparata dal giorno prima, perché oggi avevo lezione alle 8 del mattino, quindi sveglio alle 6 e mezza, perché sono molto lenta e mi conosco, quindi mi sono dovuta svegliare presto. Ho preso un caffè, avete visto prima, la faccia assonnatissima, ho preparato le ultime cose, anche se il grosso l'ho fatto la sera prima, la borsa e tutto quanto, i vestiti addirittura, li ho preparati la sera prima. Ho scelto di mettere questi pantaloni rosa, che dopo vedrete meglio, larghi, con una canotta un po' piattillata bianca, mi sono toccata, lavata e vestita e sono uscita per andare all'università. Ci vado a piedi, perché ho preso appositamente casa vicino all'università e quindi sono meno di 10 minuti di camminata. Poi quando c'è questo bel tempo, sinceramente pure un piacere. Comunque giornata strana, perché quest'anno con l'orario ho 8.14, almeno il martedì, che è un primo giorno di lezione della settimana. E belli lunedì, per fortuna non ne ho. E quindi 8.14 mi ricorda molto l'orario di scuola, insomma. Non mi svegliavo alle 6.30, tra l'altro, veramente dalmeno maggio del 2023, per cui è stato un trauma dopo sonno. Poi la presentazione dei corsi, qualcuno ha anche già iniziato a spiegare, ho preso appunti. Io mi trovo bene a prendere appunto il computer, infatti lo prendo appunto il sole in questo modo, tranne di materie, per cui è necessario scrivere o fare dei grafici. Poi sono tornata a casa, sempre a piedi, questo è l'incrocio, cui ogni volta penso che perderò la vita, perché arriva una macchina a tutte le parti. Occhiali da sole, un bel sole, tanto caldo e mi sono incamminata verso casuccia. Vedete meglio adesso anche il mio outfit per la giornata, il mio look per la giornata. Niente di pretenzioso, molto comodo soprattutto. Poi sono passata da un negozietto dove ho preso un portapenne, che vedrete dopo in legno chiaro. Sono tornata a casa, a casa non c'è nessuno in questo periodo, cosa che mi mette tanta pace. Non c'è nessuna delle mie coinqueline. Ho aperto la finestra, qui vedrete il mio outfit, è un po' di confusione, ma la mattina presto non ho avuto la forza di fare veramente nulla. Non sono una persona produttiva la mattina. Il trucco ho letto bene, ma niente di che. Io ho un po' disperata, perché avevo lasciato il letto sfatto, tutto in confusione. Mi sono cambiata subito, ho messo i pantaloncini, perché fa caldo. Ho fatto un po' di videochiamata con il mio ragazzo, che vi saluta. E poi ho registrato un video ASMR, che è lo story time del primo giorno di lezioni, che se non avete visto, vi consiglio di andare a vedere. Quello è il portapenne che ho preso per la scrivania, e questa è la mia nuova friggitrice ad aria. Non ne ho mai avuta una, e sono una bimba felice. La trovo bellissima, rosa. E sto imparando a usarla, e lo sto usando tutti i giorni a pranzo e cena, più o meno. Ma di questa friggitrice ad aria vi parlerò in un altro video, perché in realtà l'ho ricevuta con una collaborazione, e quindi ve ne parlerò meglio più avanti. Visto che si era fatto tardi, finendo la lezione alle due, e poi registrando il video, che è un video anche abbastanza lungo, ho preparato un pranzo proprio di fortuna, scongelato del pane che ho messo a scongelare appunto nella friggitrice ad aria, per non sporcare padella e non accendere il forno, è venuto perfetto. E ho preso dei formaggini, mi pare tre formaggini, che ho poi spalmato sul pane. Un pranzo veramente molto molto semplice, e niente, quindi pranzo veramente molto molto semplice. In queste prime giornate di università ancora fa caldo, e tra l'altro ancora non devo studiare. Infatti è una giornata un po' anomala, perché poi durante l'anno non sono così lente e calme le mie giornate. Però, essendo il primo periodo di lezione, non avendo ancora chiesto la tesi, e non avendo esami arretrati, di base non sto facendo molto in questi primi giorni, se non andare proprio all'università a seguire. Non sto facendo tante altre cose, il che mi fa sentire un po' inutile, però almeno mi sto riposando, diciamo. Poi non ho grandi conoscenze e amicizie, i miei ragazzi, le mie famiglie non ci sono, quindi essendo da sola ho più tempo da perdere, ecco, per annoiarmi un po'. Ok, vabbè, qui vi stavo facendo vedere un po' le mie riserve, io sono sempre piena di cibo a casa, dolci, pasta, pesti, sughi, tonno, surgelati, ecco, le cose che mancano in genere sono quelle da frigo, anche se in questo caso avevo fatto la spesa, e quindi, prima avete visto la clip anche con il mio frigo, ecco. Non che mi interessi più di tanto, però, è così. Qui stavo mangiando, ancora non mi ero struccata perché mi è venuta fame a un certo punto, quindi ho detto, beh, mi strucco dopo. E nel frattempo mi sono messa a guardare i cesaroni, che è la serie che ho guardato praticamente tutta l'estate, e diciamo che adesso sto un po' perdendo mordente perché mi ricordava l'estate, e adesso non lo è più, e quindi già per me l'estate è finita, il giorno in cui sono tornata a Roma, e quindi diciamo che non mi dà più le stesse vibes, però intanto, non sapendo cosa guardare, ho continuato un po' i cesaroni, comunque, io veramente non sono una persona capace di svegliarsi presto la mattina, infatti sono stata in coma veramente tutto il giorno, perché le 8, essere già all'università alle 8, sistemate tutto quanto è una cosa veramente impossibile per quanto mi riguarda. Comunque di solito mangio con una delle mie vinculine, però, visto che lei non c'è, sono da sola appunto prendo il ceno con, sai, tipo, poi ho preso un ginseng, questo fatto a casa è solubile, e devo dire non è come quello del bar, però tutto sommato è buono. Poi mi sono messa a riordinare camera mia, perché come vi ho detto, essendo io proprio produttivo la mattina, ho lasciato il letto sfatto e un po' di disordine, e ho riordinato, poi ho editato il video che avevo registrato, e mi sono messa un po' a programmare su questa agendina i video per la settimana. Poi, visto che la mia pelle, non so perché ogni volta che torno a Roma diventa istantaneamente secchissima, ma secca proprio tanto, 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 visto che secondo me è un po' per lo smog, per la città in sé, mi sono fatta questa maschera idratante. Poi, visto che, ripeto, ho un po' più tempo, essendo i primi giorni, non avendo esami indietro, mi sono messa un po' a leggere, anzi, in realtà, poi ho finito questo libro a tema Lolita, cioè Lolita praticamente nel mondo della moda, di attraverso i decenni, poi cena con i voltini di carne, sempre in frigidrice ad aria, e cioccolato al latte venchi, buonissimo. Visto la scuola cattolica, un film che mi è piaciuto veramente tanto, ma tra la scuola cattolica, oggi e ieri, Blonde, il film su Marilyn Monroe, un po' di pesantezza, ecco, anche se mi sono piaciuti tantissimo entrambi. Poi, ho preparato pasta al forno per i prossimi due giorni, con panna e piselli, molto semplice, ho sistemato un po' questo blender per lo studio appena comprato da Tiger, e ho letto un po' di questo libro. Enorme, bellissimo, a tema, realizzazione, costumi Disney nei film, poi un po' di ASMR, in questo caso gentilmente offerto dal canale di Serenity, ASMR, tanta stanchezza, videochiamata col mio ragazzo, con l'SMR dormicchio prima di andare effettivamente a nanna, appunto videochiamata con Alessandro, e poi sonno, basta. Ecco tutta questa giornata, una giornata lenta, è un po' più vuota rispetto al solito, perché sono senza persone al mio fianco, quindi con me è una cosa da fare, e al momento ancora senza studio, per fortuna, purtroppo dov'è ancora poco. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, spero che questo video diverso vi sia piaciuto, registrare i vlog è un po' più complicato, però in genere ad alcuni di voi piacciono, quindi spero vi piaccia anche questo, vi ringrazio, vi saluto, e vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo video. Ciao a tutti!